salve care amiche e cari amici buon pomeriggio a tutti voglio apparire elegante poi sono dovuto uscire dovrò uscire di nuovo per pratiche quindi ma voglio fare il video che avevo promesso di fare cioè trattare di ciò che ha detto il papa già da settimane quindi un video un po arretrato già ne avevo fatto un altro sul fatto che il papa sia un corso ai ripari chiedendo scusa per tutti gli errori della chiesa che sono stati commessi fino adesso il fatto è che qualche mese fa o un mese fa circa è trapelata la notizia che ci sono stati migliaia di abusi negli ultimi cento anni negli stati uniti e che la maggior parte dei preti dei prelati della curia romana non sono neanche stati castigati dalla legge perché o il reato è caduto in prescrizione o direttamente loro sono morti e se voi siete credenti immaginatevi di nell'inferno quindi care amiche e cari amici credenti o no che siate quando qualcuno copre dei crimini non è che fa un un errore uno sbaglio non è che compie un peccato morale ed etico quando qualcuno commette deliberatamente l'occultamento di prove di indagini interne della chiesa e quando qualcuno copre dei delitti non denunciandolo cioè sapendo che sono stati compiuti o mette le prove o mette gli indizi non denuncia non estromettono dall'ordine dei religiosi i religiosi colpevoli non commette un peccato morale ed etico non commette un errore ma commette anche lui un crimine quindi il papa bergoglio cioè papa francesco dovrebbe chiedere perdono per i crimini commessi dalla chiesa così come papa giovanni paolo ii ha chiesto perdono per gli errori della chiesa quando hanno diciamo rivalutato la figura di galileo galilei e anche quella di giordano bruno ma le sacre inquisizioni sacre per modo di dire che portavano attraverso la tortura a morte gli inquisiti perché la chiesa non poteva uccidere era un peccato capitale ma fra i dieci comandamenti non c'è scritto non torturare il prossimo tuo c'è scritto non ucciderlo allora loro sapevano che quelle torture conducevano a morte e uccidevano gli eretici in questo modo non erano dei degli errori non erano dei peccati etici o morali ma erano dei crimini e quindi da sempre i papi chiedono scusa dei peccati commessi dalla chiesa degli errori commessi dalla chiesa e invece no e poi è un qualche cosa di strano chiedono tutti scusa come se iniziassero loro ad accorgersi che c'è del marcio nella chiesa come si iniziasse tutto adesso cioè ma vi rendete conto che dopo 500 anni hanno chiesto scusa per le inquisizioni per gli errori e gli eccessi commessi durante quel periodo inquisitoriale quando magari già da costantino in poi si perseguitavano gli eretici e chi aveva i testi apocrifi e adesso sembra che anche questo papa riscopra i crimini della pedofilia e della federastia nel vaticano invece la storia va avanti anche da prima di giovanni xiii cioè negli stati uniti l'hanno detto negli ultimi cent'anni quindi da cent'anni fa che vanno avanti si sarebbero potuti omettere molti crimini se già cent'anni fa la chiesa avesse stromesso dal suo seno i preti criminali e invece sono cent'anni che negli stati uniti vanno avanti poi ha dovuto correre ai ripari papa francesco perché anche in germania sono saltati fuori 3.000 casi 10.000 casi o mille negli stati uniti solo negli ultimi mesi o settimane denunciati perché tutti quelli che ci saranno negli stati uniti saranno migliaia infatti molti li hanno risarciti estra giudizialmente per non arrivare a un processo comunque siccome questi accordi estra giudiziari non sono validi sono intascati i soldi le vittime poi li hanno denunciato lo stesso e casi di abuso quindi negli stati uniti già erano sbagliate migliaia poi in germania poi è dovuto andare a chiedere scusa in irlanda poi è dovuto andare a chiedere scusa in cile che in cile lo hanno intervistato nell'aeroporto quando se ne andava e lui arrabbiato ha detto finché non ci saranno prove contro questi preti e io non mi pronuncio poi subito appena arrivato in italia il giudice ha confermato in cile che avevano commesso dei deliti e un suo anunzio un suo segretario ha dovuto chiedere scusa a nome del papa per gli errori commessi anche dal papa stesso ma vi rendete conto e loro non se ne rendono conto che così perdono fedeli in tutto il mondo o forse correrono ai ripari proprio per quello in parte i soldi dell'otto per mille del cinque per mille vanno a opere poco caritative che invece di andare al bambino gesù per i bambini necessitati vanno all'attico del cardinale bertone e in parte una buona parte delle migliaia di miliardi di euro che ha il vaticano che il principale azionista di wall street e non la sinarchia mondiale come si vuole far credere e in parte vanno in avvocati che difendano i pederasti è uno schifo veramente quando ha assunto papa bergoglio ha detto la stessa cosa che voi tila che giovanni xiii e ratzinger voglio una chiesa povera per i poveri e dei poveri ecco da allora lo york e la banca del vaticano l'istituto opere religiose sembra che questo messaggio lo abbia disatteso visto che hanno dagli anni 60 ha continuato ad accastastare i migliaia di miliardi di euro e altro che chissà dei poveri per i poveri fate un'idea che il meeting di comunione e liberazione il meeting degli industriali cattolici dove vanno anche a pestare opera gratuita ma non è un'associazione di poveri proprio allora come la mettiamo in qualunque modo in qualunque forma la vogliamo rigirare per la chiesa è un gratta una gatta da da pelare un gratta capo univo i due concetti grande gratta da pelare e gatta da capo per la chiesa sono dei dolori di testa impressionanti tutti questi casi di pederastia di pedofilia addirittura di pedo pornografia sono stati incontrati nei laptop nei computer nei cellulari di molti prelati interi gigabyte o terabyte di foto o pedo pornografiche e come si fa allora a frenare tutto questo poi dicono che si sia dimesso paparazzinger tra le altre cose proprio perché lui che tanto proteggeva la famiglia l'ortodossia del matrimonio non voleva le adozioni dei matrimoni eterodossi e lui ha coperto molti casi di pedo pornografia e di pederastia all'interno della chiesa cattolica soprattutto negli stati uniti ed in germania e quindi se si è dovuto dimettere ma rimanere in carica perché altrimenti lo avrebbero chiamato se non fosse stato eletto papa soprattutto a testimoniare negli stati uniti e magari negli stati uniti lo avrebbero arrestato chi lo sa chi non lo sa se ci avete fatto caso il buon vecchio paparazzinger che è rimasto papa in merito e quindi non si è ritirato ci abbiamo due papi non uno nello stato straniero della curia romana che ha solo una capitale il vaticano i cui giardini probabilmente sono il resto dello stato pontificio che confina con roma bene lui per andare a castengaldorfo appeso l'elicottero perché perché con tutta probabilità ciò che media non hanno divulgato e che c'era un mandato internazionale di cattura per non essersi presentato a testimoniare nel processo contro la federastia nella chiesa cattolica negli stati uniti allora che succedeva anche se viaggiava in una macchina del vaticano a meno che non sia stata una macchina dell'ambasciata o del consolato del vaticano in italia che poi papa francesco si chiama così in onore al santo da sisi san francesco ma lui è uscito messi fa criticando tutti quelli che amano gli animali più delle persone ma come non era san francesco che parlava con gli uccelli e chiamava gli animali del creato del signore e critica chi ha degli animali in casa non solo uccelli cani gatti e dice io ho visto anche della gente povera a trattare meglio il loro cane per come mangiano le cure veterinarie che non altre persone e ti chiami papa francesco ma con che coraggio lui chiamava gli animali ma veramente è una cosa contraddittoria vabbè comunque qui vi ho detto le mie estere nazioni vi avevo promesso di fare questo video adesso devo uscire al centro poi ciò il cellulare con la memoria limitata per quello che non faccio un live perché lo volevo fare di passo questo video per testimoniare questa cosa a tutte e tutti voi papa francesco è dovuto dopo che in cile alla partenza nell'aeroporto ha smentito rotondamente che la chiesa fosse involucrata in casi di pedo pornografia e di pedofilia ha dovuto chiedere scusa dal vaticano dal suo stato perché lui è un monarca lui anzi è un teocrata perché il vaticano c'ha regole c'ha uno statuto medievale e poi il vaticano assiste come uno stato grazie al concordato che ha fatto con un dittatore un altro che governava con regole medievali benito mussolini non l'ha fatto il concordato con la uno stato democratico con una repubblica democratica quindi chi si lamenta che si lamenta comunque ecco siccome io penso che adesso per il centro ci devo andare a fare delle cose cambiandomi perché sto veramente in sauna però ho voluto apparire elegante e quando si vuole essere eleganti con la cravata che mi hanno detto allo stile andré di pre e allora l'eleganza si paga si paga col sudore col sudore non della propria fronte ma delle proprie sceglie mi raccomando se questo video vi è piaciuto dagli dategli like se non vi è piaciuto dategli dislike commentatelo mi fate sapere nei commentari cosa ne pensate del tema soprattutto condividetelo affinché altri lo possano commentare se vi interessa questo tema commentatelo e soprattutto condividetelo in modo che siano in molti a vederlo ea commentarlo perché se non ci saranno molti commenti e molte virus in poco tempo io non farò un altro video sullo stesso tema se invece ci saranno molti commentari e volte virus io tratterò il tema in un altro video e naturalmente tratterò tutti quei consigli che mi avrete dato ditemi cosa ne pensate e se volete che parli gli aspetti specifici del tema in cui tratto in questo video quindi ringraziandovi di avermi seguito alla prossima il vostro senten chan vi saluta poi vi raccomanderò dei video che vedrete le anteprime e vabbè ho detto tutto ciao scusatemi era finita la memoria nella micro sd e ho dovuto cancellare dei video in questo nokia asha 302 con 3,2 megapixel dicevo se sarebbe uscito dallo stato pontificio della città del vaticano in macchina e se 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 si sarebbe diretto a castel gandolfo lo avrebbero potuto intercettare da restare al papà ratzinger giovanni xvi credo che era così benedetto benedetto decimo sesto benedetto decimo sesto lo avrebbero potuto arrestare papà ratzinger se sarebbe andato via in macchina invece volato in elicottero per eludere possibili complicazioni e nessuno ha intercettato l'elicottero del papa però per me è stato per quello perché lo avrebbero dovuto detenere perché era chiamato in un'indagatoria per i crimini del vaticano in cui stava involucrato il vaticano di pedo pornografia negli stati uniti in germania in irlanda in islanda in tutto il mondo allora papà francesco corre ai ripari chiedendo scusa ma basterà chiedere scusa o doveva fare finalmente lui dopo cent'anni o più chissà da quanto tempo continuano questi casi una seria riforma della chiesa cattolica basterà chiedere scusa o deve fare di più che dare dei risarcimento economici e chiedere scusa in galera diceva giorgio bracardi in galera capito devono andare in galera prima di tutto come criminali e poi pagare i risarcimenti morali a persone che avranno tutta la vita rovinata tu ce lo porteresti alla catechesi e alla prima comunione tuo figlio sapendolo che lo possono reiteratamente sistematicamente e ripetutamente violentare in qualche modo fisicamente psicologicamente e poi in nome di che in nome di chi di dio di gesù di cristo non stanno chi li ha mai visti io no e quindi fai un po te fai un po te quello che vuoi con i tuoi figli ma sapi che gli puoi rovinare la vita